il consumo di carne e di alcol rendono l'uomo brutale e lo distolgono dalla vista spirituale dei mondi superiori facendolo concentrare sulle cose materiali la bibbia effettivamente ci insegna che all'inizio dell'era dell'arcobaleno epoca nella quale vivevano in un'atmosfera pura e asciutta assai diversa dall'atmosfera brumosa dell'Atlantide di cui si parla nel secondo capitolo della Genesi Noè fece fermentare il succo d'uva per farne del vino lo sviluppo materiale è stato la conseguenza dell'attuale concentrazione dell'energia umana sul mondo materiale e questo a sua volta è il risultato del consumo di carne e vino il primo miracolo di Gesù Cristo è consistito nel cambiare l'acqua in vino e gli stesso non aveva alcuna necessità di stimolanti artificiali al momento del battesimo aveva ricevuto lo spirito universale e per coloro che sono meno avanti sulla scala dell'evoluzione per loro egli ha cambiato l'acqua in vino ma è certo che nessun bevitore di vino può ereditare il regno di Dio la ragione esoterica è la seguente gli eteri inferiori vibrano all'unisono con gli atomi seme del plesso solare e del cuore ed è in questo modo che conservano la vita del corpo al contrario gli eteri superiori vibrano in rapporto con la ghiandola pituitaria e quella pineale assorbendo spiriti ribelli fermentati al di fuori del corpo e che di conseguenza differiscono da quelli che fermentano all'interno grazie all'azione dello zucchero si crea un disaccordo fra le due regioni superiore ed inferiore le due piccole ghiandole sono temporaneamente assopite via via che abusa di bevande alcoliche l'uomo cessa di essere cosciente nei mondi superiori si assorbe una quantità eccessiva di bevande alcoliche le ghiandole ora citate possono essere leggermente risvegliate ed egli può essere messo in grado di intravedere le regioni inferiori del mondo del desiderio con tutto ciò che può esservi di malvagio e quanto accade nella crisi patologica conosciuta sotto il nome di delirium tremens in conclusione poiché l'evoluzione della nostra anima dipende dagli eteri superiori che costituiscono il nostro magnifico abito nuziale d'oro e danno lo stesso grado di vibrazione del corpo pituitario e della ghiandola pineale e poiché d'altronde gli eteri inferiori sono collegati all'atomo germe del cuore e a quello del plesso solare è facile comprendere come possa essere funesta l'azione delle droghe e dell'alcol sullo spirito umano un vecchio adagio una volta massone sempre massone significa che quando qualcuno è stato iniziato in un ordine massonico non lo può abbandonare in quanto non può rinunciare alle conoscenze acquisite e ai segreti che gli sono stati rivelati al pari di colui che avendo seguito i corsi di una università non ne può dimenticare gli insegnamenti l'allievo discepolo o fratello laico di una scuola di misteri non può disfarsi dell'esperienza acquisita e quindi nella logica delle cose che noi ritorniamo di vita in vita verso l'oriente al quale siamo stati affiliati tuttavia può accadere che nel corso di una delle nostre vite la nostra condotta ci faccia perdere la coscienza di questo stato spirituale per farmi meglio comprendere su quanto spiego fornirò un esempio personale quando in germania mi si introdusse nel tempio dei rosa croce fui sorpreso di vedervi un uomo che avevo incontrato sulle coste del pacifico ci eravamo visti parecchie volte senza esserci mai rivolti la parola sembrava occupare un ruolo sociale ben superiore al mio non eravamo mai entrati in contatto diretto tuttavia il nostro incontro nel mondo eterico fu assai caloroso e gli sembrava conoscere tutto ciò che concerneva la nostra rispettiva vita speravo di incontrarlo di nuovo in america al mio ritorno e di ottenere da lui le informazioni supplementari di cui necessitavo quando ritornai nella città dove egli abitava amici comuni mi avvertirono che mi attendeva ed era ansioso di vedermi perciò quando lo vidi mi avvicinai subito a lui e gli strenzi cordialmente la mano sembrava mi conoscesse da da sempre e mi chiamava per nome ciò stava ad indicare che lì si ricordava perfettamente di tutto quello che era avvenuto quando usciti entrambi dal nostro corpo fisico ci eravamo trovati in germania d'altra parte mi aveva detto nel tempio che si ricordava di tutto quello che gli capitava quando si trovava fuori del corpo fisico cosa alla quale credetti subito in quanto era arrivato ad un grado di iniziazione superiore al mio che era il primissimo il giorno del nostro incontro nel mondo fisico dopo una breve conversazione fece allusione ad una cosa che gli fece sgranare gli occhi dalla sorpresa gli avevo parlato di un incidente accaduto durante il nostro incontro nel tempio e capì che non ne aveva conservato alcun ricordo tuttavia gli avevo detto troppo per non dirgli di più e non apparire ai suoi occhi uno stupido gli dichiarai quindi che mi aveva affermato di ricordare tutto quello che a lui succedeva e gli negò formalmente la cosa quando ci lasciamo insistette nel farmi promettere che mi sarei informato della ragione per la quale era un fratello laico dell'ordine della rosa croce in quanto non si ricordava assolutamente nulla della vita che poteva condurre fuori del corpo fisico il mistero fu chiarito più tardi quando mi disse in occasione di un incontro sull'altro piano che il fatto di fumare delle sigarette e di prendere delle droghe gli ottenebrava il cervello al punto di non riuscire a conservare alcun ricordo delle sue esperienze psichiche quando gli ebbe spiegato la cosa fece dei lodevoli sforzi per liberarsi dalle sue nefaste abitudini il presente caso dimostra come sia necessario vivere una vita pura e sana non perdendo mai di vista che il nostro corpo è il tempio di dio e che è nostro dovere non profanarlo noi non danneggeremmo inopportunatamente una casa di dio costruita con mattoni e cemento e che tuttavia non possiede la benché minima parte di santità che è stata conferita al corpo di cui disponiamo il cervello in particolare è il grande ed importante strumento per mezzo del quale possiamo compiere il nostro lavoro in questo mondo fisico è perciò evidente che non dobbiamo fare uso di bevande alcoliche o di narcotici che lo intorpidiscano e che sbarrano la strada al nostro progresso e quindi ci sono un po' di narcotici che lo intorno al nostro progresso e che lo intorno al nostro